ciao a tutti ragazzi eccoci qua con il primo video di... fermi un attimo voglio provare a fare questo mio primo video tag perché questo tipo di video colleziono bambole soprattutto di mattelle colleziono bambole soprattutto l'ever after ma passiamo subito a tutti gli altri regali che ho qui così tale 2014 quando mi è stato regalato quanti anni hai oltre a britney qual è la perché sono un tipo di video che mi piacciono molti ma penso ma ma comu... artisti diversi anche abbastanza anche... e di Raven Queen anche lei con le sopraccigli... che mi farà veramente piacere e se raggiunge... e soprattutto spero di imparare a... io vi mando un bacione... io intanto vi saluto vi mando un bacione... io intanto vi saluto... vi mando un bacione e ci vediamo... io vi saluto vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao